Buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti e come sempre ben ritrovati nella mia disordinata biblioteca. Questa sera parleremo di questo libro, Hitler, la fine di Hitler fuori dal mito e dal romanzo giallo. Un libro del 1965 pubblicato in Italia nel 1965, l'autrice è la scrittrice sovietica Elena Rzvezkaia. Nell'introduzione che vi passo a leggere si dice che vent'anni orsono, in questi giorni di maggio, in una scuola alla periferia di Berlino si poneva definitivamente fine all'ultimo conflitto che ha insanguinato il nostro globo. Il Feldman e Schallo Keitel firmava la resa della Germania nazista. In questi anni molto si è scritto sugli avvenimenti di quei giorni e non sempre con intenti seri, se per questo continuano ancora oggi. Anzi, soprattutto attorno alla tragica figura di Hitler, alle ultime ore vissute nel bunker alla sua morte, si è teso a creare un alone di mito, di leggenda, che basandosi su testimonianze inesatte hanno rappresentato falsamente un così importante avvenimento storico come la fine del Terzo Reich. Ci giunge oggi, sempre 1965, per la prima volta dalla Russia sovietica il racconto completo di questo storico episodio, narrato dalla scrittrice Elena Rzvezkaia, che in quei giorni di maggio del 1945 era l'interprete militare del gruppo di ufficiali soldati sovietici del comando della Terza Armata al quale era stato affidato l'incarico di trovare Hitler. Elena Rzvezkaia fu la prima con la sua pattuglia ad entrare nel bunker della cancelleria del Reich. Il libro della Rzvezkaia narra le ricerche compiute nei sotterranei della cancelleria, nel parco, fra le macerie di Berlino incendiata. Riferisce come furono trovati i cadaveri di Hitler e di Eva Braun nella buca di una granata presso l'uscita di sicurezza del bunker, descrive l'inchiesta sulle circostanze della sua morte e l'identificazione del cadavere. In quest'opera, una parte notevole toccò a Kete Heuserman, assistente del professor Blaschk, e all'odontotecnico Fritz Echtmann, che erano praticamente quelli che mettevano le mani nella dentatura di Hitler. L'autrice riferisce anche le conversazioni con altre persone interrogate, come il soldato delle SS Mengeshosen, membro della Guardia del Corpo di Hitler, che fu testimone oculare della sua cremazione, ed il dottor Kunz, l'uomo che aiutò la moglie di Goebbels ad avvelenare i figli. Il libro colloca nel loro esatto succedersi episodi e fatti già noti, ponendo fine ad ogni ambiguità che ha dato adito alla leggenda e al mito. La narrazione è completata da documenti inediti di grande interesse storico, con lettere di Hitler, brani dei diari di Goebbels e di Martin Bormann, testimonianze dirette di coloro che hanno vissuto le ultime tragiche ore nel rifugio blindato di Hitler. Il libro è estremamente importante perché è praticamente la prima ammissione da parte sovietica della morte di Hitler, vent'anni dopo i fatti. Perché per anni l'Unione Sovietica ufficialmente disse noi non sappiamo che fine abbia fatto Hitler, è morto, è vivo, non si sa. Questo libro fu la prima ammissione ufficiale da parte dell'Unione Sovietica che il cadavere di Hitler era stato ritrovato e identificato. Però quando si tratta di libri provenienti dall'ex Unione Sovietica c'è sempre un però grosso come una casa, ovvero sia la censura di partito, il controllo da parte del partito, da parte della burocrazia, da parte della censura sovietica su tutto quello che veniva pubblicato al di là della cortina di ferro. E questo libro, pur essendo un interessante documento storico, ne risente pesantemente perché è pieno di omissioni, è pieno di contraddizioni e c'è un dico, non dico, faccio capire, non faccio capire, dico balle. Anche balle sono scritte in questo libro. Ma proprio per questo questo libro va letto con gli occhi di oggi per sapere cosa accadde all'epoca subito dopo la conquista di Berlino da parte dell'Unione Sovietica, sempre ricordandosi che si tratta di un libro proveniente da quel festival della repressione e della censura che era la Russia Sovietica. povera Russia, mille anni di storia, nemmeno un giorno di libertà. Che ci volete fare? Signori, se lo trovate, prendetelo, leggetelo, fatevi un'idea e fatemi sapere, come sempre. Vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci.